bentornati ragazzi sul mio canale zoo pappagalli come vedete qui c'è il maschio del parrocchetto e appena è volato via li avevo messo sulla vogliera si vede che avevano fame perché ieri ho saltato dagli da mangiare ero troppo stanco stamattina sono sceso e li ho visti fuori dal nido come vedete eccoli là sopra appoggiati bellissimi non trovate ecco la loro vogliera sono passati qui sotto vedete basta una spintarella e si apre sono usciti fuori sono volati via e si sono messi qui uno è qui questa qui la femmina si riesce a distinguere perché senza collare mentre questo qui è il maschio che sta 5 anni al collarino con l'allunga color verde un'ultima cosa ragazzi iscrivetevi al canale per non perdere i nuovi video e gli aggiornamenti grazie buona visione 5 buona 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 Grazie a tutti.